Prima di diventare un brand da milioni di dollari, The Walking Dead è stato un fumetto coraggioso e inusitato che il suo autore Robert Kirkman ha portato al successo con una storia ben narrata e coerente, grazie anche al supporto di un solido comparto artistico, con singoli momenti che resteranno nella storia dei comics. Ma procediamo con ordine. Robert Kirkman è un appassionato di fumetti che appena finito il liceo cerca di mettersi in mostra attraverso la strada dell'autopubblicazione, investendo tutto il suo denaro e collezionando valanghe di debiti. La sua prima bizzarra opera, disegnata dall'amico Tony Moore, si chiama Battle Pope, ovvero le avventure di un pontefice post-apocalittico che combatte le forze del male a suon di pastorale. Questo folle piccolo fumetto diventa un cult per gli amanti del settore e permette al giovane Kirkman di iniziare a scrivere per la Marvel e per la Image. Con la Marvel le cose non andarono mai bene, visti anche i numerosi paletti creativi che venivano imposti per questioni aziendali. All'Image, invece, il nostro autore trova l'humus adatto per le proprie opere, anche grazie a un'impostazione manageriale che lascia agli autori la possibilità di gestire le loro creazioni a 360 gradi. Creata quindi una propria piccola sottoetichetta denominata Skybound, Kirkman, dopo qualche dimenticabile titolo, trova un primo modesto successo con Invincible, ovvero l'ennesima revisione del mondo dei supereroi in chiave drammatica e violenta, che Amazon ha recentemente trasposto in una serie animata con un buon risultato di pubblico e critica. Una sicurezza economica, ancora al di là da venire, è la nascita del primo figlio, Matt Kirkman, di fronte alla necessità di ampliare le entrate in famiglia, oltre che introdurlo all'inedito ruolo di padre, fatto questo che influenzerà la tematica di fondo della sua opera di maggior successo. Infatti, come lo stesso autore ha più volte ammesso, dove gli altri vedono un survival horror, lui ha visto la battaglia di un padre per proteggere il figlio dai pericoli del mondo. Ciò nonostante, la prima proposta di The Walking Dead, con un altro titolo a dirla tutta, viene rifiutata dalla image, che ritiene un fumetto horror, per di più in bianco e nero, un suicidio commerciale. Il nostro autore però non si arrende e lì per lì inventa una bugia che convincerà gli editori, promettendo una storia che sa già che non scriverà mai. Kirkman, infatti, rivela che gli zombie, in realtà, sono una finta trama secondaria che porterà entro il quinto numero alla vera storia, ovvero una coloratissima invasione aliena combattuta da un inedito Rick Grimes che si risveglia dal coma dotato di superpoteri. Questa trama sconclusionata vince le ritrosie degli editori e il fumetto di The Walking Dead viene dato alle stampe il primo ottobre 2003. Inutile dire che non ci sarà bisogno di virare verso la fantascienza, visto che nel giro di pochissimi numeri il fumetto diviene un successo di pubblico senza precedenti, tanto che il numero 100, ovvero la comparsa di Negan, al momento risulta essere uno dei fumetti più venduti degli ultimi vent'anni. Ma cosa deve la sua fortuna quest'opera? Come ho detto prima, c'è una coerenza di fondo che rende la serie a fumetti superiore alla sua controparte televisiva, pur trattandosi di media differenti, intendiamoci. Nel fumetto la storia è sceneggiata sempre e solo da Robert Kirkman, che non è certo il miglior scrittore di comics al mondo, ma possiede una conoscenza molto accurata dei meccanismi di lettura della tavola disegnata, usando con regolarità quasi scientifica, una serie di matrici stilistiche come la splash page o le vignette a variazione minima, per velocizzare o rallentare i tempi di lettura a piacimento. I dialoghi sono brillanti e realistici e non soffrono gli inevitabili spiegoni che devono essere comunque messi a cadenza regolare per introdurre nuovi lettori alla storia. Anzi, i momenti di riflessione sono un ulteriore modo per gustarsi l'originalità della serie in cui la sopravvivenza porta a rivedere concetti quali la fedeltà, la famiglia, la differenza d'età in amore, le differenze culturali, gli istinti sopiti. The Walking Dead, nei suoi testi, cerca di indagare quale sia la reale natura degli esseri umani, in una narrazione in cui, nel giro di poco tempo, gli zombie diventano solo un contorno. A riprova di tutto ciò, non viene quasi mai utilizzato il nome zombie, o meglio, compare solo tre volte in tutti e 193 i numeri della serie, con un conseguente utilizzo di altri termini per identificarli, che ne accentua sempre di più il distacco dagli umani. Zombie ha un significato culturale, mentre Rumer, vagante, ne identifica il comportamento, come fossero animali o oggetti. In seconda istanza, una volta che l'umanità si riunisce in piccole comunità, la minaccia dei morti viventi diventa tutto sommato gestibile per stessa missione dei protagonisti. L'immagine di Michonne, che si fa strada a colpi di katana tenendo dalla catena due Walking Dead, li trasforma di fatto in animali da compagnia, come se quelle non fossero mai state delle persone. Il governatore li usa per degli improbabili spettacoli gladiatori, come gli schiavi dell'antichità, e addirittura Rick Grimes, che conoscerete tutti come l'eroe di questa epopea, non si fa certo scrupoli ad utilizzarli come arma di attacco o di difesa contro le ricorsive società malvagie che incontra. Insomma, ai nostri cari zombie, che numero dopo numero si fanno sempre più marci e fragili, oltre al danno della loro condizione, si aggiunge anche la beffa di essere reinseriti in quella società che avrebbero dovuto divorare, occupando le mansioni più umilianti. Un destino peggiore della morte, verrebbe da dire. Il focus dell'opera, quindi, se non nella lotta con i morti viventi, va cercata da un'altra parte, e Kirkman in realtà ce la pone di fronte con una ciclicità eclatante. Il pericolo sono gli uomini. Il pericolo è insito nella costruzione della società, che inevitabilmente, per quanto mossa dalle migliori intenzioni, porta con sé sofferenza e morte. Prova ne è che tutti i personaggi principali, se non muoiono, presto o tardi vengono mutilati o sfregiati. Le varie comunità con cui i protagonisti vengono in contatto, siano esse dittatoriali o democratiche, evidenziano disparità, egoismi e falle, al punto tale che lo stesso Grimes inizia a porsi con il suo gruppo come un bullo, allo scopo di estorcere una sistemazione migliore per sé e per i suoi. Questo naturalmente finché non incapperà in un bullo più bullo di lui. Ma questa è un'altra storia. E come ben sa chi conosce la serie, le scelte che questo leader compie sono spesso scelte sbagliate, che costano la vita a molti dei suoi compagni. Ciò nonostante, la comunità non ne mette quasi mai in discussione l'autorità, dandoci l'ennesima ragione per essere pessimisti sulle dinamiche della società umana. Infine, la potente coerenza di quest'opera deriva dalla presenza di due soli disegnatori per tutta la serie. Al già citato Tony Moore si sostituisce dal decimo numero il meno virtuoso Charlie Adlard, la cui scelta però si rivela azzeccatissima. Se infatti lo stile cartunesco di Moore stona in una narrazione drammatica, i chiaroscurinetti e i volti squadrati di Adlard aiutano lo spettatore a concentrarsi sulla storia senza perdersi in dettagli inutili. Un segno senza fronzoli, perfetto per i testi diretti e brutali di Kirkman, che hanno dato alla luce alcune vignette tra le più scioccanti della storia del fumetto seriale. In definitiva, se vi è piaciuta la serie televisiva adorerete i fumetti, che dello show tv rappresentano una versione più coerente e estrema, potendosi permettere scene e tematiche che in televisione non potrebbero mai superare la censura. Va detto che molti personaggi nei due media hanno un destino diverso, anzi alcuni proprio non esistono, e la storia stessa è molto diversa, quindi difficilmente potrete spoilerare la vostra stessa lettura. Considerando le vicende del fumetto al pari delle stagioni televisive, consiglio l'arco narrativo del secondo volume, che segnano sia lo stile di disegno che di scrittura di tutta la serie, con la permanenza in prigione e la lotta contro il governatore. Se invece siete dei fan di Negan, sappiate che fa la sua prima apparizione nel volume 6. Vi auguro una buona lettura.